Anche questo è un anno che per quanto le condizioni siano migliorate, in quest'ultimo periodo manifesta ancora delle importanti difficoltà. Quindi l'augurio che io faccio alla nostra città, la città di Taranto, è di poter vivere un Natale delle festività serene, in famiglia, proteggendoci da questa maledetta Covid-19, da questa pandemia, cercando proprio di riconquistare la nostra libertà per ritornare a vivere come facevamo un tempo. Quindi auguri a tutti, a tutta la città, a tutte le famiglie e che il 2022 ci possa veramente riportare ad una vita normale come facevamo prima.